Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui in questo nuovissimo video Oggi siamo qua insieme a Mezzanto il mio amico Mezzanto saluta Ciao E oggi ragazzi, indovinate un po' che novità Oggi 3 luglio è il mio compleanno ragazzi Quindi se spammate sotto nei commenti auguri Scrivete hashtag auguri nei commenti e vi lascio il cuoricino Mezzanto vuoi dire qualcosa per il mio compleanno? Mi hai fatto un regalo? Mi hai fatto un regalo? Non mi hai fatto un regalo? Vedi? Non mi hai fatto un regalo? Come ti sei permesso? Seguimi su TikTok sarebbe un regalo? Ragazzi seguitemi su TikTok CarmineNapolitano37 E Instagram Neymar con 3R10C Bene, come ho già detto prima Spammate sotto nei commenti Hashtag auguri e vi mettete il cuoricino al commento ragazzi Ci vediamo alla prossima